Filippa Lagerbak a chi svela perché ha accettato di sposare Bossari Filippa Lagerbak si svela dopo lincontro con Bossari al Grande Fratello Vip. . Ieri 27 novembre 2017 è andata in onda la semifinale del Grande Fratello Vip, reality show condotto da Ilari Blasi e Alfonso Signorini su Canale 5. . Il reality dopo aver fatto uno scherzo a Daniele Bossari gli ha permesso di incontrare Filippa Lagerbak. I due sono sempre stati molto riservati, ma il conduttore ha sorpreso tutti facendo la proposta di matrimonio alla donna della sua vita davanti alle telecamere. . Filippa in un'intervista esclusiva rilasciata al settimanale Chi in edicola da domani 29 novembre, ha svelato il perché del suo sì. . La compagna di Bossari ha spiegato che in passato Daniele era genuino e spontaneo, anche se forse ha bruciato troppe tappe. . . Secondo la Lagerbak non appena ha fatto il salto da presentatore, Bossari si è spento, si è chiuso in se stesso. . . Ecco perché Filippa Lagerbak ha accettato la proposta di matrimonio di Bossari. . . Filippa Lagerbak durante l'incontro con il compagno nella casa più spiata d'Italia ha detto di aver rivisto finalmente l'uomo di cui si è innamorata. . E' proprio per questo che la Lagerbak ha accettato di diventare sua moglie. . La conduttrice ha spiegato che i due si sono sempre sentiti marito e moglie, infatti sono andati a convivere subito dopo essersi conosciuti. . . . . . .